La Terra Madre 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 Se io nascesse oggi, io volevo essere un agricoltor. Io beijo la terra, io adoro la terra. Il futuro, non del Brasile, ma del mondo, è il campo, è la terra. Per il gruppo corporete enti, per il food che c'è, siamo non liberi, siamo prisonersi. Perché del Green Revolution, la agricoltura, la chimica agricoltura, il soil ha perduto la vita. Il farmato è perduto l'income, e il comitato il suicidio in India. Mbpsi non possono essere usato di nuovo e di nuovo. Quindi il farmato è compito di nuovo, e di nuovo, e di nuovo, e di nuovo. 50,000 farmaci hanno comitato a suicidio durante i ultimi 10 anni. La terra non necessita pesticidi. La terra non necessita chimiche. Siamo insieme. Siamo come una piccola famiglia. Come forse. Siamo a portare. Non viviamo in una casa, viviamo in un paese. Ci ci rende più libertà di fare cose come noi vogliamo. Questa è una piccola famiglia, è una piccola famiglia. Se ci sono 100 famiglia, ci sono circa 70. 30 famigliano. Ci sono aiutato di avere un posto di intercambi. Quindi se la terra madre potrebbe avere più opportunità per i fissi, per i fissi. Tu fissi e fissi 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 fissi. Non? della cultura Terra Madri è un lavoro continuo è una fondazione che lavorano continuo non è una question di tre, quattro, cinque giorni di rencontre non, è una continuità creare un link between generations è molto importante per me e per il mio paio perché ora ho trovato delle idee c'è una baguette c'è una foglia di palmiere bisogna tenere le due come questo e di scegliere la baguette fa un movimento, non qui c'è da l'eau guardate bene ogni volta che facciamo un movimento inizia un cifo di palmiare verso l'avent Perché noi bisogna questo abbiamo bisogno di questo La terza rivoluzione industriale partirà dai vostri villaggi, partirà dalle vostre aziende, partirà dalle vostre campagne. Ma come realizzeremo questo? Ciò che fate voi è già virtuoso. Continuate a fare quello che fate. Una risposta semplicissima. Questo è il paradiso in cui viviamo. È un spazio, un pedazzo di Colombia, un pedazzo di planetà che vogliamo recuperare e restaurare in termini del bosque. Allì fu quando, magicamente, abbiamo trovato che c'era un café, perduto, per i tecnici e i esperti, era qualcosa che non era un café, perché era una cosa vergonzosa, in medio di malezza, di arboli, c'era che cambiarlo. Però la decisione nostra fu non cambiarlo, seguiríamos così perché ci importava più la vita che il dinero. Siamo multimillonari in molti cose, in dinero non tanto. Qualcuno diria, ah, però allora Pedro non fa negozi in dinero e non vende café. No, sì, claro, anche facciamo negozi, anche vendiamo, però non è nostra priorità. Siamo felici precisamente perché abbiamo scoperto che per essere felici la priorità non poteva essere il dinero, era lo altro, lo che il dinero non compra. No, 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 no. No, 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 no. Non, no, 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 non, no, 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 ya ne ho sei stupido. Agbar poicholari sono dei fa uncontrollamenti in streyle questa裯, soprattutto dagli argenti, ma attra nulla glacier e stupendendo le beholdità potter. è abbastanza difficile. Ci costa molto di money per combustibile e per transporte. Quindi dove possiamo dobbiamo vendere localmente. Comprare tutte le cose directe del produttore è quello che ci interessa. La famiglia di subsistente, la famiglia di piccola, è una strada di poverà. Se facciamo un po' famiglia come un figlio, potrai avere il pieno per creare la sua famiglia, per creare la sua famiglia e essere quello che vuoi essere. Abbiamo abbondanza, un surplus che possiamo ritornare alla terra e alla gente. La prima cosa per solare il problema è iniziare a creare a un livello comunitario in modo che i agricolti potrebbero identificare i problemi e realizzare i problemi per loro. Non è sempre semplice, ma continuiamo a fare il nostro lavoro perché non abbiamo la possibilità e perché noi amiamo. non abbiamo mai avuto l'Africa. Abbiamo mai avuto l'Africa. Abbiamo mai avuto l'Africa. Ah, ok. Abbiamo avuto l'Africa. Abbiamo avuto l'Africa. In il vostro paese, cosa usate quando vuoi usare il flore? In mio farm abbiamo un trattore. Ah, un trattore. In Benin, non trattore. Non c'è trattore. Ma c'è trattore. Ma c'è trattore. Ma c'è trattore. Ma c'è trattore? No. Non c'è trattore. Ma c'è trattore. Ma c'è trattore. Ma c'è trattore. Un ullo ha. Un ullo. Un ullo, un ullo, un ullo, un ullo, Un ullo, un ullo, un ullo. E adesso ci che dovremo fare. Allora ti farei il tavino e le cibi e le cuscici. Sì. No, 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 no Uno studente della Monument Mountain Regional High School del Massachusetts Sam Levin. I was really nervous, and instead of getting more nervous when I saw, you know, 8,000 people sitting in front of me, and I realized that we're all together on this, I stopped feeling nervous. I have a story to share with you. Exactly one year ago Monday, I walked through the doors of my public high school in Massachusetts, planning on presenting the idea of Project Sprout to my guidance counselor. And that's all it was, an idea. The plan was simple, create a student-run organic vegetable garden on school grounds. The story of Project Sprout is a message from our generation to all those that came before us that says we will be the generation that reunites mankind with the earth. Thank you. Thank you. Thank you. Sì, ragazzi! Sì, ragazzi! Sì!